e bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video più esattenti torniamo su airstone per andare a parlare di un nuovo mazzo a fare la guida di un nuovo mazzo sapete che ormai sono usciti i nerf al druido druido che deve trovare una nuova identità e quindi proviamo un'altra classe un'altra classe che anche lei è stata svantaggiata tantissimo dal nerf sia di spezza prigioni sia di yog stiamo parlando di rogue rogue che lo presento in una nuova salsa quindi una salsa potremmo dire più meravigliau e quindi andiamo a vedere un bellissimo rogue ha 30 carte con tess infatti giochiamo una versione potremmo dire tiff con tante carte diverse che ora vi andrò a mostrare vi ricordo nel frattempo che questo weekend ci sono anche i pacchetti del master tour quindi se vi collegate e vedete almeno due ore ottenete un pacchetto dovrebbero iniziare dalle 18 su twitch quindi visto che sono pacchetti gratis fatelo che vi conviene per quanto riguarda comunque la lista lista come detto a 30 carte vediamo tantissime carte tra gli zero e due mana e poi qualche carta insomma rimanente una curva davvero leggerissima e quindi partiamo proprio quelle a zero con ombre di sfatto, passa dell'ombra e prep per andare a sfruttare sia per passa dell'ombra sia ombra di sfatta magari qualche servitore andarsene a riprendere in mano eccetera eccetera prep per magari ottimizzare e fare dei turni più forti qui c'è una grande domanda ed è quella che riguarda assordamento ecco assordamento alcune liste lo giocano 2x a me piace 2x però se volete potete anche mettere un altro breakdance che è davvero molto forte in questo mazzo e togliere un assorbimento come preferite assorbimento per andare a rimuovere e spaccare magari i servitori nemici invece breakdance ovviamente per andarsi a riprendere i servitori e quindi ottenere più valore ecco breakdance quindi serve in un meta potremmo dire più control invece assorbimento servirebbe più per un meta aggressivo comunque combo eccetera eccetera compilation per andarsi a prendere e rubare le carte avversario intrugliatore per avere le coq aculeo per affrontare i mazzi con più servitori e mazzi insomma più aggressivi alchimista per andare a giocare le coq super scontate astalor come prezzemolo come al solito cintura per avere ulteriori coq e qui abbiamo creazione di kajamite un servitore interessante del mini set che mi piace abbastanza ti dà un buon valore insomma alla fine andare a rinvenire ottenete sempre qualcosa di buono e quindi non è per niente un brutto pezzo sparte pozioni per ottenere ulteriori coq estranea per ottenere segreti ecco i migliori segreti che volete ottenere è counterspell è counterservitore del mage in alternativa anche il segreto del lanter non è male in alcune situazioni potrebbe servire explosive in altre potrebbe servire il più 3 più 3 in altre se volete fare delle giocate tempo potete andare a selezionare o il 4-2 con furtività oppure il servitore appunto da tre mana che si evoca se l'avversario ha utilizzato tutto quanto il mana ventaglio di lama è per andare a pescare per eliminare alcune minacce dell'avversario vipera per andare a spaccare l'arma nemica e poi abbiamo anche regina zara per avere ulteriore valore andare a giocare un colosso che potrà essere rievocato poi da Tess gran kiatoa invece colosso del rogue è appunto Tess che voi la vorrete rigiocare più volte grazie a breakdance ombra di disfatta o passo d'ombra tenete conto anche che Tess appunto oltre a ricastarvi il colosso della regina zara vi può andare a castare tutte quante le altre carte che ottenete casualmente sia dalle coq sia appunto da compilation eccetera eccetera insomma questa è la lista fate sapere voi cosa ne pensate mazzo vi ricordo anche che giovedì ci sarà il torneo ci sono gli ultimi 60 post a disposizione quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi che ormai stanno andando via ruba e niente andiamo con i game e quindi andiamo subito con la prima partita prima partita di oggi che ci vede giocare contro un prete speriamo che ovviamente sia un mazzo aggressivo in quanto come al solito giocare contro contro priest non è mai un'esperienza bellissima c'è da dire che la mano è ottima non ci possiamo di sicuro lamentare possiamo andare a due mana addirittura a giocare il 3-2 più doppia coq turno 1 però lo dovremmo sacrificare e quindi passiamo immediatamente il turno senza poter fare nulla di altro vediamo cosa andiamo a trovare ovviamente non andiamo a trovare il pesco 2 visto che giochiamo comunque un tesserog dovrebbe andare bene due carte casuali in verità le due carte casuali sono pessime sto pensando se vale la pena andarlo a giocare ora ma sinceramente anche no possiamo forse aspettare più tardi mi aspettavo o speravo qualcosa con più valore invece nulla di tutto questo davvero delle cartacce purtroppo ci sono arrivate e soprattutto delle cartacce per giocarle assieme a test va bene andiamo di 2-2 troviamo contro incantesimo almeno andiamo a pushare 3 danni testa sono abbastanza indeciso se andare a giocare contro incantesimo qui direi che non c'è il bisogno per ora passiamo quindi il turno l'avversario va a forgiare va a giocare frammento del naro no in verità lo va a scambiare non avrebbe avuto senso effettivamente andarlo a giocare 4 mana per noi e probabilmente qui possiamo andare semplicemente contro incantesimo andare a pushare testa un po' di danni riprendiamoci un attimo il 2-2 vediamo cosa andiamo a trovare obiezione che non è male mi sto prendendo ovviamente tutti questi incantesimi per poi essere rigiocati da test che potrebbero essere non dico forti ma almeno un minimo competitivi qui dovremmo completamente bloccare il turno all'avversario infatti il coin viene bruciato tuttavia ha esplosione sacra che è la rimozione perfetta ora per la nostra board e per come si sono messe le cose possiamo fare semplicemente yellow power passo speriamo che metta un qualcosa una minaccia almeno il gran chiatò diventa effettivo ma l'avversario non sembrerebbe voler andare a mettere servitori va a giocare infatti una spell no va a giocare il 2-6 che viene counterato tuttavia peccato avrei preferito forse che il 2-6 venisse giocato non sono abbastanza indeciso se andare a giocare il 3-2 gran chiatò o gran chiatò però vorrei giocare con qualcosa di più forte in campo e va bene il 3-2 perché ci dà comunque la spell a 3 del demon hunter che è vero è terribile che venga giocata con Tess in quanto andremo a pescare forse davvero troppo però almeno è un turno ok qua ci andrà a rubare gran chiatò il che non è una buona cosa anzi è davvero pessima speriamo che non ci vada a rubare qualcosa di troppo forte all'interno del mazzo assordamento ci va a spaccare il 3-2 e probabilmente qui passa il turno niente vediamo cosa andiamo a pescare in questo caso andiamo a pescare addirittura 4 carte ventaglio di lame fa schifo esperto fa schifo ventaglio di lame fa ancora più schifo visto che ne abbiamo già due la 5 mana è forte però il problema è che è un po' tardi averla trovata ora andiamo a giocare gran chiatò è il nostro unico turno che potremmo definire decente che possiamo fare quindi niente l'avversario ovviamente ce lo rimuove con estrema facilità come era prevedibile ma d'altronde cosa potevamo fare? usa le nostre stesse carte contro di noi almeno otteniamo una 2-1 va a giocare un 4-4 4-4 che non dovrebbe essere particolarmente forte noi ora possiamo andare a fare l'1-4 almeno dovremmo riuscire a ottenere un minimo di vantaggio appunto da questo servitore qui accordo del potere per andarlo a baffare diventa più 1-2 e si va a prendere un'altra carta scusate sono indeciso se andare a traddarlo con doppio ventaglio purtroppo non troviamo i 3 danni da lì direi che a questo punto possiamo andare a giocare con quel 3-2 andare come dicevamo di doppio ventaglio in questa situazione continuare a ciclare e andare a giocare la seconda coq niente pesco 4 abbastanza bruttino da questo punto di vista troviamo aculio assordamento nulla di che a questo punto ci riprendiamo l'1-4 e lo andiamo a rigiocare è vero che andiamo a sprecare una shadow step così però d'altronde non possiamo rischiare di millare e quindi va bene così prossimo tour comunque abbiamo la spell a 7 abbiamo shadow step copiata quindi va bene potremmo anche andare di 5-5 insomma ora abbiamo la mano piena pur essendo iniziati davvero male ora ci troviamo in uno spot discreto il problema ovviamente è che non abbiamo messo un minimo di pressione abbiamo fatto semplicemente 7 danni che sono davvero pochi ma andiamo a cercare un colosso forte speriamo appunto un colosso ovviamente neutrale in modo che non possa mai essere utilizzato con Tess mamma mia la sfortuna ci sta perseguitando magari con la seconda spell a 3 potremmo essere più fortunati decide di andare a fare quel trade va di parola ad ombra ci spacca sia il 6-5 sia il 5-5 ci rimangono i dacoli 1-3 capite quanto ha fatto schifo il nostro colosso vediamo con la seconda spell a 3 se avremmo più fortuna nel frattempo si va a prendere un'altra carta al 5-6 noi troviamo estranea ok finalmente il 6-6 è un colosso non dico forte ma decente almeno ci permette il trade sul 5-6 stesso possiamo andare anche di 2-2 magari andare a giocare di segreto che andiamo a trovare in questo caso è barriera di ghiaccio anche significato nascosto non è malissimo forse significato nascosto è più buono rispetto a barriera barriera a vantaggio che l'avversario ci dovrebbe giocare attorno ma visto che nelle partite di prova io mettevo i segreti maggi l'avversario se ne fregava altamente di quello che giocavo basta ho capito che gli avversari non ci giocano attorno ai roba e giocano malino e quindi va bene così andiamo a giocare segreto del hunter che si dovrebbe attivare in ogni caso andiamo ovviamente tutto quanto testa comunque la nostra board è abbastanza buona l'avversario deve traldare in qualche modo potrebbe farlo con diverse carte dire è vero ma noi comunque abbiamo una test che poi ci permette di andare a rimontare ecco qui che cade nella nostra trappola va a fare hp e ci attiva appunto il segreto del hunter segreto del hunter che tra l'altro ci ha un 4-2 che non è per niente male a questo punto sapete che potremmo anche aspettare per giocare test un altro turno dal 3-2 andiamo a trovare uno schifo in verità eclissi solare forse è la cosa meno peggio di tutto anche se a dire è vero non lo so vediamo se dall'1-2 otteniamo una spell buona niente spacca servitù che non è un gran che a questo punto forse ci conviene giocare davvero test perché volevo mettere un po' di pressione ma purtroppo non siamo riusciti a trovare nulla di buono capite che eclissi solare se trovavamo già la spell a 3 che evocava pezzo se trovavamo una spell che ci dava appunto valore eccetera eccetera sarebbe stato diverso a questo punto dire andiamo almeno a pescare 2 è vero che andiamo a millare una carta però potrebbe essere interessante qua fa tutto comando schifo andrà a giocare il 3-4 intanto lui non dovrebbe avere particolari armi usciamo 4 danni ulteriori testa l'avversario deve andare di 3-10 3-10 che possiamo comunque andare a rimuovere grazie alla spell a 3 quindi potremmo fare spell a 3 più test il problema è che poi non c'è possiamo andare a riprendere in mano e questo forse è il più grande problema per ora è vero con la spell da 1 ci andremo a prendere test 6-6 quindi avremo il trade con il 3-2 e l'1-2 ma il 3-2 va a morire e va a giocare lui stesso una liadrin così aculio non è malissimo allora andrei a giocare test e vediamo come va ovviamente obiezioni e counter sono fortissime in questo spot il 2-1 ci permette comunque di tradare il 3-10 altro segreto che è altrettanto buono qui possiamo andare anche di aculio e in verità spell da 1 secondo me ci sta andare a fare un turno del genere alla fine sto pensando se con la spell da 2 mi attiva mi mette due volte il test in mano ma non credo proprio al massimo mi evoca due volte i 6-6 che non mi interessano la borda è già buona così quindi passiamo questo turno vediamo perché qui l'avversario potrebbe andare in forti crisi in quanto sia counter spell sia counter servitore lo vanno a demolire va a broccare counter spell vediamo se va a broccare anche counter servitore va di istantanea va a spaccarci il 6-6 in questo modo va anche a spaccarci con cannibalismo l'altro 6-6 insomma degli 8 in turni da parte dell'avversario che però ci attiva comunque il segreto da 2 dell'hunter noi non è che riusciamo a mettere tanta altra pressione qua andremo tra l'altro a millare un po' di carte però d'altronde cosa dobbiamo fare l'importante è avere ancora astalor intrugliatore prep va anche abbastanza bene la spell da 1 otteniamo a corre potere che ci piace tantissimo a questo punto possiamo andare di aspe da spingere due danni andarci a prendere il 5 mana che ci da ulteriore armor andarci a copiare il 5 mana e andare a pushare tutti questi danni testa direi che siamo in un ottimo spot a questo punto è vero che siamo in fatigue però la borde è devastante abbiamo ancora una testa abbiamo ancora doppio astalor difficilmente il prete può cavarsi da questa situazione che abbiamo impostato con bravura deve utilizzare gorgo per forza è vero che ci va a togliere un astalor ma in questo modo ha perso la partita in quanto abbiamo 14 danni più uno di hero power gg well played davvero bel game bella partita combattuta fino all'ultimo avevamo comunque ancora la tess che ce l'avrebbe portata a casa sicuramente però ottimo game questo è proprio l'esempio di come si gioca contro prete quindi il cercare valore avete visto che c'è stato è stato tutto un po' insedita a un certo punto perché avevamo insomma delle carte che non workavano benissimo però siamo riusciti a costruire tutto quanto bene pur non avendo il primo colosso che fosse buono perché era ovviamente non di classe e quando vi capita non di classe è terribile però insomma andando a riutilizzare la spella 3 poi siamo riusciti a vincere proprio per la nostra abilità nel andare a sviluppare una board buona che potesse essere rigiocata con tess la mano è senz'altro interessante rigiochiamo contro prete no vi prego vi supplico non di nuovo contro il priest prego tutti i santi del cielo perché già la partita è prima durata a 20 minuti non vorrei fare un'altra partita così lunga una cintura direi ci andiamo a tenere volevo andare a trovare il 3-2 3-2 che è arrivato ma è il 3-2 sbagliato è un aggro priest interessante come cosa la partita sarà molto più difficile di quanto potessimo pensare dalla spella 1 possiamo tenere il suo 1-2 non credo di volerlo potremmo andare a scoinare il 3-2 per obbligarlo a fare coin e non poter quindi giocare a uno morto il che non è malissimo oppure passiamo semplicemente poi il prossimo turno andiamo a giocare il 3-2 no io direi che possiamo accelerare anche perché il 3-2 magari ci potrebbe dare una soluzione la soluzione non ce la dà però ci dà comunque una donata che è un turno 3 abbastanza onesto che mette tanta borde quindi è molto buono l'avversario come da previsione decide di andare a fare aero power ci lascia il tempo a questo punto di andare a fare la spella 2 però il top deck del drop a 2 è ancora migliore e da qui otteniamo una risorsa fondamentale credo per il proseguire la partita la spella 3 è fortissima vediamo vediamo il da farsi turno 3 l'avversario potrebbe andare di 4-3 potrebbe andare di luogo che sarebbe altrettanto buono invece decide semplicemente di andare a HP vediamo e a questo punto mi sa che possiamo andare forse di spella 3 per andare a mettere il triple 1-1 andare a settare il trade con l'arma sull'1-2 in modo da lasciarlo 1-1 e poterlo tradare al prossimo turno direi che va abbastanza bene così prossimo potremo andare a giocare la spella 2 che ci dà doppia cock più il servitore che ci dà segreto ma tutto un pochino da valutare l'avversario nel frattempo continua a fare degli ottimi turni va a giocare 1-2-2 va a giocare il 4-3 che si buffano a vicenda buona anche la spell che ricassa spell potremmo riottenere un'altra spell da 3 in verità il che appunto non è malissimo come cosa direi andiamo a vedere prima che segreto andiamo a ottenere se otteniamo explosive abbiamo vinto la partita ovviamente explosive non c'è significato nascosto è la cosa migliore almeno credo andiamo quindi a giocarlo e qui dobbiamo pensare ai trade direi trade sul 2-2 con gli 1-1 trade con la testa sull'altro 1-1 almeno non si buffa in attacco il problema è ovviamente quel 6-3 che è senz'altro forte e fastidioso però d'altronde non ci possiamo fare niente eh vabbè il 3-5 qui è devastante va a evocare doppio 1-2 va a portarci 7 danni testa purtroppo il 4-2 non è che è molto d'aiuto anzi abbastanza pessimo in questa situazione l'1-4 potrebbe svoltarci leggermente però secondo me astalore è meglio tra l'altro qui sono stato troppo veloce ovviamente il trade era da fare sul 2-2 che almeno mi rimaneva un 2-1 vabbè ho giocato un po' veloce e niente andiamo comunque a curarci di 8 carta decisiva anche il prossimo turno dobbiamo cercare di curarci 8 non so bene come attivare il finale il prossimo turno ci serve un buon top deck spell 0 va a giocare il 5-4 contro l'altro reborn capite l'avversario sta facendo davvero dei turni fortissimi noi cerchiamo il più possibile di stargli dietro va a fare HP per spaccarci astalore in questo modo granchiatoa dovrebbe essere abbastanza aculio sarebbe buono però il problema è che mi toglie la spell a 3 io voglio assolutamente avere la spell a 3 anche perché test me la deve castare almeno due volte e deve essere decisiva quindi andiamo a pensare ai trade dire è vero possiamo tradare sul 3-2 o andare testa secondo me prendere meno danni possibili va bene alla fine magari con quel 3-2 decide di spaccarmi 6-5 e dovrebbe essere abbastanza buono così però è tutto un pochino da valutare vediamo abbiamo altre 8 di cura che senz'altro saranno fondamentali per il proseguire la partita c'è tensione si può palpitare insomma l'avversario non vede l'ora di chiudere questo game noi dobbiamo cercare di sopravvivere parola d'ombra è devastante in questa situazione ci va a spaccare il nostro 6-5 si mettono a borde di tutto rispetto ci porta altri 3 ulteriori danni testa vipera non era esattamente quello che volevamo trovare ma comunque ci dobbiamo arrangiare con quello che abbiamo direi possiamo andare di 1-4 andare a spaccare il 3-2 andare a fare HP e Spella 3 a meno che non vogliamo fare Spella 3 prima e quindi non andare a evocare il 3-3 con provocazione ma il 3-3 con provocazione sarebbe molto buona dire il vero non lo so ragazzi è davvero una decisione ardua secondo me non andare a evocare forse il 3-3 è la cosa migliore in questa chance però evocarlo sarebbe troppo forte quindi andiamo a spaccare il 3-2 andiamoci a prendere la cocca andiamo a fare hero power almeno il 3-3 ci davvero salva letteralmente e ci para da ulteriori 3 danni senza andare a utilizzare gli aculi che possiamo utilizzare al prossimo turno insieme ad Astalor che ci dovrebbe curare di altri 5 inoltre il 1-4 è attivo quindi ci va a dare un'altra mistura speriamo una mistura buona evoca servitore evoca di nuovo servitore credo che sia la peggiore in questo matchup scavo tombale invece è la carta perfetta per l'avversario in quanto gli permette di pescare carte e soprattutto iniziare a trovare ulteriori risorse ulteriori danni che ci potrebbero portare sempre più vicini a una morte devastante ventaglio di lame anche qua è fortissimo in quanto continua a farlo ciclare parola d'ombra sono ulteriori danni e andiamo a 8 punti vita è vero Astalor ci permette di curarci anche Tess a dire vero è fortissima però andiamo a giocare con calma quindi andiamo a giocare per prima cosa Astalor possiamo andare a giocare anche la spell potremmo anche evocare servitore e fargli 3 danni testa per iniziare ad essere noi gli aggressori se no l'alternativa è andare a fare spell da 1 però purtroppo la spell da 1 non troviamo niente io speravo di trovare il 3-2 ad esempio che ci andava a mettere una carta delle sue in mano e niente invece è uno schifo trafficante d'arti che possiamo giocare andare a scambiare il 3-4 magari alleati in preture non serve nulla ventaglio di lame magari potrebbe essere utile a qualcosa ma nemmeno troppo a dire vero a questo punto si andiamo a giocare l'1-2 e possiamo anche passare non è un grande utile in verità andare a scambiare qui la la vipera va abbastanza bene così anche perché magari la vipera ci potrebbe servire per attivare tesco il finale in modo da ottenere i vari 3-3 l'avversario ci va a copiare una carta va a fare la 5-4 qui se a fortuna ci entrano altri 5 danni la fortuna ce l'ha di avere un altro non morto in fondo al mazzo dopo il primo 5-4 tirato va a fare anche cattedrale cattedrale non dovrebbe essere un problema comunque qui dovremmo riuscire a tradare tutto abbastanza bene va a toccare anche il 2-1 il 2-1 è molto più difficoltoso sotto ogni punto di vista purtroppo per noi allora dobbiamo pensare qui bene a che turno vogliamo andare a fare a dire è vero a dire è spacchiamo il 5-4 andiamo a spaccare il 2-1 e a questo punto andrei di tesla vogliamo attivare col finale andrei a giocare doppia cocchi intanto non ha senso andare di ventaglie lame va bene lo spacca servitori va bene il pesco 2 almeno ci potrebbe dare ulteriori risorse e niente qua dobbiamo sperare che di vincere almeno che una spell da 3 ci vada a testa sto pensando se ha senso prendersi un altro turno però è tanto rischioso in verità prendersi un altro turno siamo a 8 punti vita lui quanti danni mi ha fatto no è troppo rischioso qua sono saremmo a 6 punti vita vediamo sì sì va bene abbiamo fatto già metà dell'opera 8 di cura sono fondamentali in questo spot no purtroppo i secondi 8 non ci vanno testa però l'importante era mettere una spell a 3 sulla sulla nostra capoccia e questo credo che ci porterà la vittoria della partita non credo che possa rimontare più da qui anche perché la board nostra ormai diventa davvero forte e soprattutto abbiamo anche un'asta loro in canna che ci potrebbe dedicare delle giocate interessanti qui l'avversario continua a suormare tantissimo ha fatto insomma il suo turno migliore noi però possiamo andare in verità a giocare la spell a 2 andare a rimuovere tutto qui mi sa che anche senza testa a dire è vero quindi andando a fare semplicemente spell a 3 avremmo vinto perché non aveva effettivamente abbastanza danni per ucciderci quindi anche se gli 8 cure non ci fossero andati testa probabilmente questa sarebbe stata una vittoria per noi fatto sa andrei di astalo l'astalo dovrebbe andare a rimuovere tutto quanto qui vediamo se rimane qualcosa di vivo da tradare con le pedine no niente allora tiriamo tutto quanto testa abbiamo settato l'ital per il turno dopo ragazzi davvero un bel game non c'è nient'altro da dire qui non può recuperare in alcun modo anche se avesse una spell oddio il titano per carità è forte ci va a rimuovere 8 8 e 6 6 però sono ancora troppi danni che gli arrivano mamma mia davvero assettate perché insomma può fare altre robe l'avversario a dire è vero vediamo cosa va a pescare in questo caso comunque ancora l'ital perché abbiamo l'arma sono comunque 6 danni dalla testa poi va bene avremmo altri 3 in mano e quindi gg well played davvero un bel bel game nulla a dire bellissimo equilibrato tosto avvincente sono i giochi di arson che ci piacciono e che vogliamo avere e portare qui sul canale terzo e ultimo game quindi di oggi vediamo se questo rogue fa effettivamente bene post nerf come sembrerebbe e speriamo di non trovare un altro prete se no davvero ragazzi e basta cioè vi prego ormai diventa un priest stone insomma priest stone a me proprio non piace meglio comunque shadow rispetto a contro la mia partita dura un pochino di meno anche se c'è da dire che questo shadow ci ha dato fino alla fine filo a torcere niente non è prete ma è bensì lock il che mi fa piacere quando un giocatore termina turno con mano utilizzato pesca una carta ecco questa anomalia credo che ci possa far perdere letteralmente sullo spot il game in quanto noi vogliamo giocare in curva lui vuole invece andare a pescare il più possibile ecco non dovrà nemmeno fare hp non si dovrà nemmeno prendere quei due danni per poterlo fare in quanto effettivamente l'anomalia lo farà per lui ma va bene giochiamo contro anche il gioco stesso non ci lamentiamo che noi sappiamo di avere la maestria dalla nostra parte e quindi di poterci andare ad assicurare a vittoria anche se ci gioca tutto quanto contro la mano non è malissimo purtroppo non abbiamo altre due non abbiamo la spella 2 però abbiamo una certa curva a culio senz'altro non è un granché in particolare se dovesse essere control o abissal o otaddius nei casi in cui invece fosse imp sarebbe buona ma visto che gli imp non ne girano dubito altamente ora di vedere un flame imp tirato a turno 1 ma magari potrebbe succedere già che ci stia pensando così tanto per andare a pescare una carta mi fa capire che avversario sarà una lunga partita no? perché penserà molto anche perché non lo so cosa stia pensando qui infatti cioè o tappi e ti prendi due danni in più oppure vai a pescare semplicemente la carta senza prenderti due danni un po' tutto schifo complotto potrebbe essere discreto no? perché come fare andare a vincere contro lock contro lock dobbiamo andare a fare dei giocati a tempo e di sicuro complotto ci permette no? perché in quanto ci va a mettere dei servitori davvero grossi che possono essere ricastati più volte da test e questa è la cosa buona andare a mettere contro lock delle board che devono essere rimosse ma sono difficili a rimuovere andarli a far finire il removal il problema è tenere a bada i suoi turni forse più forti potremmo definirle così prosciugamento d'anima ci va a spaccare il 3-2 e continua a pescare ovviamente lui ha il nuts in mano andando a pescare ogni volta a 0 noi purtroppo non possiamo essere dello stesso parere in quanto dobbiamo giocare sempre tutto quanto in curva andiamo a prenderci la seconda mistura 3 danni a una carta casuale non sono quello che stavo propriamente andando a cercare ci serve mettere più board per andare a infondere quella spella 3 e iniziare a mettere più pressione possibile counter spell non c'è nulla a dire è molto buona potrebbe essere molto fastidiosa per il lock io l'andrei a giocare forse addirittura in questo turno anche andando a perdere un mana in quanto vorrei counterare la sua spella 5 quella appunto che fa 6 danni evoca 6-6 gli fa pescare 6 carte distrugge 6 carte eccetera eccetera in quanto non possiamo permetterci che la possa andare a giocare ora direi possiamo andare anche di coin spella 2 per andare a cercare soluzioni il pesco 4 è buono direi che possiamo andarla a prendere il problema è che non possiamo giocare la prossima turno se no rischiamo di millare quindi probabilmente andremo a giocare l'altra spella 3 ma vediamo vediamo il da farsi l'avversario va a trovare il 5-3 noi non abbiamo la spell da uno che silenzia dire vero il che è abbastanza traumatico da questa situazione l'avversario ha il nazi in mano d'altronde ha pescato tantissimo o lo andiamo a cercare con la spell da 3 però potrebbe essere greedy oppure andiamo a far 3 danni qua andiamo a cercare una soluzione dal drop casuale drop casuale esattente un 3-3 failerin che non è malissimo in quanto comunque possiamo giocarlo ora andiamo a trovare 1-1-1 andiamo a trovare i vari 1-1-1 che potrebbero essere anche buoni purtroppo niente silence dall'1-1 allora andiamo a spingere due danni testa passiamo qui il turno e speriamo che non faccia troppe porcate avversario quindi no non avremmo nemmeno probabilmente trovato la spell da 1 che andava a silenziare vedendo le carte che abbiamo pescato ma va bene così non capisco perché ci voglia attaccare testa mi aspetto appunto che si vada a spaccare il servitore lui ci sta pensando non capisco bene a che cosa boh molto dubbioso avversario sul da farsi tra l'altro quello che sto pensando è che non ha giocato minimamente attorno al segreto è pazzesco ovviamente qua riverberry viene completamente counterata profanazione invece ci va a tradare tutto quanto e va bene così esce un 4-7 da lì che comunque possiamo gestire più o meno con krabiatoa non lo so se andare a giocare krabiatoa qui più che altro gli esce un 11-11 un 6-6 che non possiamo andare a tradare siamo un po' in crisi non abbiamo manco tess in mano non abbiamo manco spacca servitore perché spacca servitore qui sarebbe davvero molto molto forte potremmo optare di andare a giocare la spella 3 andare a mettere board se no krabiatoa ce lo va a spaccare però appunto come facciamo a rimuovergli poi il pezzo ci fissiamo al prossimo turno no direi di no andiamo a giocare direi doppio 5-5 a questo punto e in modo da mettere comunque una board interessante che l'avversario deve andare a tradare e inoltre che non sta sotto il 4-7 quindi io credo che questo sia il turno migliore in verità un turno un po' lento ma mettere quadruplo 5-5 per il loco potrebbe andarle a spaccare e distruggere completamente il suo modo superanti e poi il prossimo turno possiamo andare di krabiatoa magari con la spella 2 che può essere utilizzata l'importante è quando non trovi 6 danni tutti ok non l'ha trovato perché ci sta pensando troppo l'unica l'unica carta che poteva risolvere questa board l'unica carta che poteva risolvere questa board l'ha trovata ok noi troviamo comunque test che andiamo a giocare immediatamente perché doppio 5-5 è fortissimo inoltre andare a mettere no l'uno-uno maledetto gli uno-uno maledetti quanto vi odio passiamo ovviamente noi andiamo a spaccare questo servitore counter spread qui è fortissima perché comunque se avesse twisty nether non la può andare a giocare il titano è ancora troppo presto quindi potrebbe essere addirittura gg well played a questo punto vediamo però che turn andrà a fare il lock se ha la soluzione se va a prendere il 6-6 qui è vinta perché anche se va a fare 4-1 sul nostro 3-3 e va a trovare il 6-6 è assolutamente vinta perché a bordo è troppo forte già che mi vado a traddare lì cosa ha un'altra le file non ci credo sono un'altra le file in mano va bene che ha avuto l'anomalia perfetta tra l'altro qui va pure a millare niente trova l'11-11 ha vinto pure il 50-50 qui l'avversario va ovviamente a counterare counter spell ora che può visto che è tutta 0 mana si va a prendere un 4-8 che morirà a fine del turno quindi non dovrebbe essere comunque un grossissimo problema ci va a traddare la test no ci ripensa va a fare provvista il flagello va a pescare 3 carte mamma mia che turno sta facendo però ci sta mettendo troppa ancora 8 mana è incredibile perché riverberi lì? ma si spacca il taunt in questo modo cosa sta facendo? ma ha perso la partita perché non ci ha rimosso board? boh vabbè va bene non ci lamentiamo a questo punto direi che possiamo andare a traddare doppio 11-11 con gli 1-1 visto che ce li ha lasciati in campo abbiamo little letteralmente in board va bene anche terza ultima partita